Sì, a me è stata lenta, lei è la mia, nella mia cucina, nella cucina. È un'attività di una cucina, che è un'attività di una cucina, c'è un'attività di una cucina, che è una cucina di una cucina. Lo ho detto con voi, che fuori sera sono uscita a vestire un po' di un'arriata, e questo weekend per me è stato più pronta. Perchè quando invece torni a casa, che è la cunzera, che stai già a casa, ti svegli subito, sei già sabato, la serata di Giacomo a me è stata solita però per me non mi sembra che sia un'altra